Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un'intervista ad alcuni media cinesi ha raccontato le proprie aspettative della visita del Presidente Xi Jinping in Italia in questi giorni. Ospichiamo che possano scaturirne intese, idee, progetti, nei quali il partenariato italiano-cinese possa ulteriormente svilupparsi, anche a beneficio più generale della collaborazione tra Europa e Asia, che ha bisogno di un volume sempre maggiore di investimenti sostenibili in infrastrutture per assicurare un futuro di benessere e di pace per tutte le popolazioni dei due continenti.